Signore e signori buongiorno, è domenica, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia per la sesta giornata della seconda fase del campionato provinciale categoria allievi, oggi c'è da questo lato la Val di Sancro con la divisa bianco-azzurra, qua c'è il gruppo dei titolari insieme al loro mister, qua ci sono i ragazzi che partiranno dalla panchina e da questo lato con la classica tenuta giallorossa c'è la Virtus Castelfrentano, qua vediamo Niccolò che ha preso a destra la palla che parte dalla panchina, abbiamo Enrico Caporale pure lui che parte dalla panchina con numero 13, abbiamo Vladutu Karan pure che parte dalla panchina, pure Marcello che parte dalla panchina, c'è Renzetto qua che parte dalla panchina, qua in fondo c'è il gruppo dei titolari che scenderanno in campo dal primo minuto, qua abbiamo il secondo portiere il numero 12 Daniel Luci, qua abbiamo Matteo Dorazzo il primo portiere, ovviamente con il numero 1, qua abbiamo il blocco dei titolari, la formazione di oggi che scenderanno in campo è Matteo, Alessio, Andrea, Riccardo numero numero 6, numero 7 Lele, numero 4 Guido, numero 9 Bartolino, numero 10 Michele Daniello, numero numero 11, Teidi Mata, il capitano in questa gara è Dondino, con il numero 5, il vicecapitano è Teidi Mata, ecco Michele tutti pronti, è una bella giornata di sole, fa caldo, da questo lato c'è Mister Gabriele, consigliere, collega, dirigente Adriano Gian Cristofaro, ci vediamo al prossimo video con l'entrata in campo delle due squadre.